Andiamo tutti d'accordo, possiamo chiudere la via perché altrimenti, lei sa se c'è qualche discordio tra vicini di qua di là, tutte cose non si possono fare. Un'amicizia che dura da decine di anni, senza litigio e rimproveri, ma costruita solo sulla base del rispetto e della condivisione. Queste le parole chiave che contraddistinguono i residenti in via dei Pini a San Lazzaro di Fano, dove almeno una volta l'anno si riuniscono in strada per una cena in compagnia. Si è iniziato così per gioco che i mariti cucinavano per le mogli e via discorrendo, è andato avanti a fasi alterne, adesso ormai sono 14-15 anni che si fa tutti gli anni. Una cosa un po' insolita perché in realtà sono le mogli che cucinano per i propri mariti. Sì, adesso comunque collaborano anche le mogli, anzi collaborano tutti perché c'è molta disponibilità da parte di tutti e veramente qui siamo tutti d'accordo, siamo cresciuti tutti insieme con queste case e adesso a distanza di 40 anni ancora siamo tutti amici. C'è molta disponibilità da parte di uno, da parte dell'altro, se uno va via qualche giorno o controlla una casa perché adesso lei sa che con tutta questa gente che circola bisogna stare molto attenti. Sabato scorso, appunto come dicevo, vi siete riuniti un'altra volta, in quanti eravate? Eravamo 55 più 5 ragazzi. Prima abbiamo incontrato una signora che tempo fa cucinava loca, poi però ha cambiato il menù. Sì, perché la signora non poteva più farlo, allora dal parco di giochi che comunque si occupavamo solo pubblico, siamo trasferiti qui anche perché c'è qualche anziana che non riesce bene a deambulare, quindi siamo tutti qui vicini. Poi la riaccompagniamo anche a casa. Dunque amici e famiglia al completo riuniti all'insegna dell'allegria dove non manca mai anche il parroco della chiesa Gran Madre di Dio, Don Giuseppe Marini, che in occasione di queste iniziative presta ai parrocchiani tavolini e sedie. Per quanto riguarda il menù invece si va dall'aperitivo ai dolci fatti rigorosamente in casa dalle signore. Poi abbiamo fatto degli antipastini, poi abbiamo fatto la carne alla griglia, verdura di stagione, poi c'erano molti dolci, anche perché c'è la tradizione che tutte le signore che vengono portano un dolcetto da casa e poi lì c'è molto, quella che chiede la ricetta a quell'altro, come l'hai fatto, come non l'hai fatto, proprio perché, quindi abbiamo più dolci di una grossa pasticceria. Una condivisione in tutto. Sì, veramente, sì, siamo bene, siamo molto contenti.